le regine di tutti i contorni un classico intramontabile benvenuti nella cucina della redazione di cook oggi scopriamo come preparare le patate al forno alla maniera di jammy oliver ecco gli ingredienti le patate salvia rosmarino aglio olio aceto di vino rosso sale e pepe come prima cosa peliamo le patate quindi prendiamo le nostre patate le sbucciamo ed eccole qua pronte per essere bollite in acqua salata per sette minuti e in men che non si dica le nostre patate sono belle bollite le sistemiamo su una teglia e la inforniamo a 190 gradi per 30 minuti ecco fatelo senza ruzionarvi aggiungiamo un po di sale un pizzico di pepe e un filo d'olio andiamo in forno a 190 gradi per 30 minuti mentre cuociono è giunto il momento di preparare il nostro intingolo versiamo dell'olio dell'aceto mettiamo anche un po di pepe che ci sta sempre bene e un bel pizzico di sale il rosmarino dei pezzetti di salvia e uno spicchio d'aglio in camicia mescoliamo in tutto se questa cosa la fate ma anche il giorno prima e lasciate riposare quest'olio otterrete un intingolo speciale in questo caso fatto lì per lì viene comunque profondamente aromatico non ci resta che schiacciare le nostre patate e poi spennellarle col nostro stupendo intingolo abbondate pure con l'intingolo torniamo in forno a dorarle 190 gradi 45 minuti ed eccole pronte croccantissime il contorno perfetto per ogni secondo piatto noi ci vediamo alla prossima ricetta ciao 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 ciao